Ciao amiche, ciao amici, bentornati sul canale! Oggi farò una mia personale classifica, una mia personale top 5 su 5 profumi che appartengono alla mia piccola collezione che secondo me sono profumi molto coccolosi, molto avvolgenti sono proprio avvolgenti come una coccola Allora, cominciamo dal numero 5 e number 5, vi piazzo il Poison Girl Unrespected però questa non è la versione Poison Girl classica ma è la versione Unexpected che è una versione, se non sbaglio, del 2018 guardo un attimo sugli appunti e infatti abbiamo in testa lo zenzero, l'arancia rossa e il limone infatti ragazzi lo zenzero si sente tantissimo un profumino caldo, avvolcente, dolce però allo stesso tempo con un quid in più, non so dirvi, con una sferzata così di simpatia e abbiamo nel cuore la rosa di Damasco e nella base abbiamo la vaniglia, la fava tonka, il cashmeran e la nocciola proprio vaniglia e fava tonka e nocciola che conferiscono questo carattere coccoloso questo carattere goloso però allo stesso tempo è un profumo che ha una sua personalità non è un profumo troppo stucchevole ok andiamo avanti number 4 non potevo ragazze non piazzarvi la vie belle di Lancome ormai lo conoscete questo profumo, lo conoscete tutti sono sicura un profumo ormai diventato iconico un profumo ragazze che secondo me è sempre molto fascinoso come profumo sebbene ci siano tantissimi dupe però devo dire la verità l'originale sicuramente ha un quid in più infatti lo trovo molto coccoloso perché ha questa base di vaniglia e di paciuli che chiaramente lo rende anche molto potente come profumo dolce ma allo stesso tempo un profumo importante però c'è in testa, sento dei fiori e dei frutti che permangono per diverso tempo, devo essere sincera perlomeno questo succede sulla mia pelle che gli danno un carattere coccoloso però allo stesso tempo brioso quindi ragazze al quarto posto la vie belle al terzo posto ragazze non posso non mettervi il Miss Dior Eau de Parfum questo è nella versione del 2017 e questo ragazze è un profumino molto coccoloso secondo me ci avvolge proprio come una coccola tra l'altro ha un'evoluzione stupenda bisogna aspettare un po' di tempo per sentire proprio il carattere vero di questo profumo è un profumo, un floreale fruttato però con una base molto dolce con una base molto coccolosa vi consiglio di dare un'annusata se vi trovate presso una profumeria questa ripeto è Eau de Parfum e secondo me ragazzi se siete alla ricerca di un profumo femminile però allo stesso tempo coccoloso ve lo consiglio proprio caldamente ok andiamo avanti al secondo posto ragazze vi metto un profumo che è un profumo anche super super low cost questo si chiama Lady Sugar e l'ho acquistato presso Erospin e che dire ragazze è un profumino che mi piace tantissimo ve lo straconsiglio e io ce l'ho da diverso tempo e devo dire che dura tantissimo che dire ragazze questo profumo ve l'ho già detto si colloca un po' a metà tra il Miss Dior e il Pink Sugar e al secondo posto in realtà ragazze vi piazzo anche il Pink Sugar che in questo momento non ho ma andrò sicuramente ad acquistare perché ragazze mi intriga tantissimo è un profumo super super coccoloso è un floreale è un pizzico fruttato ma allo stesso tempo ha una base super super dolce io sento proprio la vaniglia sento anche un pizzico di fava tonka che dire ragazze io ve lo straconsiglio per il prezzo che ha un prezzo veramente irrisorio la durata è una durata eccelsa ve lo posso assicurare e quindi se vi trovate da Erospin date un'annusata se cercate un profumo super super coccoloso un profumo avvolgente come una coccola ok al primo posto ragazze non posso non piazzarvi il Girl of Now di Elisab e questo ragazze è un profumo che devo assolutamente riacquistare perché comunque è un profumo super super coccola perché qui c'è un connubio bellissimo tra il latte di mandorla che sta alla base ma il pistacchio che sta in testa poi c'è anche la fava tonka, la vaniglia c'è un profumo veramente super super coccoloso un profumo che nonostante il fatto che sia chiaramente un profumo gourmand dolce ha però come posso dire una sua originalità in quanto in testa ha proprio il pistacchio e nota che effettivamente secondo me lo fa differenziare da diversi altri profumi dolci come questo che dire ragazze io vi straconsiglio di dare un'annusata a questo profumo perché è avvolgente come una coccola il tipico profumo che ci scalda il cuore lo dicevo con la mia amica Mariangela che dire ragazze allora secondo me questo è un profumo che si colloca al primo posto della mia classifica dei profumi super coccolosi profumi coccola profumi che ci scaldano il cuore profumi che possono anche aiutarci a vivere meglio determinate situazioni ok io vi auguro come sempre una splendida e radiosa giornata un bacione ciao 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 ciao